We're Orchetti, supportatemi tutti quanti come creatore scrivendo il codice Orchover The Gamer 12, tutto attaccato? Supportandomi come creatore avrete l'opportunità di giocare con me su Fortnite e se volete potete anche inviarmi la richiesta di amicizia su Epic Games, le accetto a tutti. Il mio id Epic Games è uguale al codice creatore che potete trovare scritto anche nella descrizione. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!